Cambia la classifica del girone C di Serie C con il Foggia che guadagna una posizione. Sono stati infatti ridati due punti di penalizzazione ai rossoneri guidati da Zeman che da 49 passano a 51 punti in classifica, raggiungendo il Monterosi e superando Turris e Picerno. Lo ha comunicato direttamente la Lega Pro attraverso il proprio sito ufficiale. Un sorriso per la compagine pugliese che domenica a pomeriggio affronterà l'Avelino tra le Muramiche. In vista del mezzo e contro la formazione irpina ha fatto il fantasista Alessio Curcio. Questa settimana siamo consapevoli di giocarci in una partita un'intera stagione quindi l'importanza della partita fa sì che l'attenzione sia massima. Però tutto sommato penso sia una buona stagione. Ovvio che penso che tutta la squadra, tutto lo staff ma tutti in generale meritiamo i playoff e quindi domenica dobbiamo fare di tutto per centrare questo obiettivo. Fare anche qualcosa in più perché l'andata è finita in pareggio, l'abbiamo riacciuffata all'ultimo nonostante la gran bella prestazione contro una squadra che è stata costruita per dominare il campionato e vincerlo. Quindi adesso dobbiamo vincere e dobbiamo fare qualcosina in più rispetto all'andata. Pochi, anzi pochissimi dubbi di formazione per Zeman che non si discosterà dal suo credo tattico, il 4-3. Dalle pari dal masso, Garattoni a destra, l'inizio a sinistra, Di Pasquale, Sciacca al centro della difesa. Centrocampo con Rocca, Peterman e Di Paolo Antonio. Recuperato del tutto Ferrante, castigatore dell'Avellino nel match d'andata che sarà supportato in avanti da Curcio e Merola. Grazie a tutti.